E' in programma domani mercoledì 20 febbraio alle ore 11.30 presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta che entrerà a regime su tutto il territorio comunale a partire dal 1 aprile 2019. Interverranno il sindaco del Comune di Agropoli Adamo Coppola, il vice sindaco nonché assessore all'ambiente Elvira Serra, Loredana Bardascino di Sarim SRL, Carlo Fumo di Acab Med SRL. La Sarim, che già svolge il servizio di raccolta differenziata nel territorio di Agropoli dalla scorsa estate, ha infatti programmato il nuovo calendario di raccolta che dovrebbe migliorare sia la percentuale che i servizi stessi. E' un'azienda nata 30 anni fa come impresa di servizi di pulizia. L'inflazione nel settore spinsero il suo fondatore Giovanni Bardascino a cercare nuove opportunità di sviluppo in ambiti diversi e fu proprio l'intuizione della proprietà ad indirizzare l'attività verso il settore della tutela e della cura ambientale per creare una società specializzata nel settore dei rifiuti che fosse anche eticamente corretta. Alla fine degli anni 80 si sviluppò l'idea di intraprendere la via della gestione dei rifiuti iniziando ad ottenere i primi risultati. Oggi Sarim serve 16 comuni con oltre 200 mezzi e circa 400 dipendenti.